Buongiorno ai nostri spettatori, siamo qui con Horke, siamo il 39esimo Film Festival di Toronto Siamo con il collega Horke Putman, che è giurato della FIPRESCI, l'associazione dei critici cinematografici del mondo, di cui faccio parte anche io Come vedete, Tiff, eccoci qua, e hai, Horke, che ti gustò más di questa pelicola che viste hasta ora? No, in realtà, per il fatto di essere giurato della FIPRESCI, le film che ho visto fondamentalmente sono filmiche che sono dentro della lista che io devo vedere e che per ragioni di discrezione, in modo che dopo abbiamo che riunere con i altri membri del giurato, non posso ancora parlare pubblicamente sulle le filmi Però fuori di le filmi, fuori di le filmi che non formano parte di le filmi che ho visto, voglio dire che hai alcune che mi hanno impressionato molto bene Come, per esempio, una pelicula argentina, in cui la vi per seconda volta, Relato Salvages, di Daniel Chifron che è realmente una pelicula che riunere il elemento del cine popolare e del cine artistico a través di sei storie diverse, molto ben realizzate Otra pelicula che ho visto e che mi ha satisfecho anche, è una pelicula di Alemane che si denomina Hoenex è il mio realizzatore, non ho ora presente il nome, Cristian, mi olvide il nome di famiglia, del realizzatore che hizo la pelicula Bárbara con la mia actrice Nina Foss che mi ha satisfecho anche molto Bene, siamo in comienzo e, per lo tanto, è possibile che, a medida che passano i giorni, starai più in condizione di poter somministrarti peliculas che hanno stato di mi agrado Molissima grazie, Jorge, tutto lo meglio Molissima grazie Molissima grazie